Ehm Dei gran casotti Nel senso che Ehm Allora Quello che vi porto sono video Dedicati Alla mia collezione Di videogiochi Oggi insomma Stavo facendo The Witcher Ed è andato tutto Quanto male Ma proprio tutto quanto male Cioè finalmente riesco a rimettermi ora Ehm A schermo Io avevo iniziato la live Poi a un certo punto ho avuto una serie di E di problemi fuori dalla live Fatto sta che Solo ora sono riuscito a rimettermi Allora facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti Geralt Allora siamo venuti qui per liberare questa casina Ehm Dai mostri Dopodiché prendiamo e ce ne andiamo sostanzialmente Cioè chiudiamo la live E boh Facciamo qualcos'altro Facciamo Fenix Rising Qualcos'altro Mi spiace Geralt Ma è così Allora Stavamo guardando questo posto Perché era pieno di trappole E ora noi ora le disattiviamo Problemi soltavano Problemi soltavano Problemi soltavano Problemi soltavano Problemi soltavano Allora Indubbiamente tutto ciò è molto strano Perché Le trappole messe qui Ma Dall'impressione Che queste trappole Siano state messe Con altri Eh sì Disattivere E' disattivata Occhio Occhio Leto Che cosa stai parlando? E' vero Va bene adesso Chi ti cerca? E' vero E' vero E' vero E' vero Lewis? Un amico Un po' Un po' Un po' Un po' Lewis raccomandò questo posto a me E' vero E' vero E' vero E' vero Certo Faremo il posto Certo Abbiamo un plan di attacco Si Improvisca Come al solito Ma scusi Buono amico ma lei Oh la madonna Grazie a tutti! Sì, andiamo a vedere Come andiamo a vedere è difficile da trovare se non lo vedi o non lo vedi. Luce, è un'unico di uno dei vostri amici. Guarda più vicino, Geralt. E' un po' di più. Oh no And that's why you trusted him I felt he owed you one I was stupid Superdita can cast you But betrayal cast even more Come on Una persona orrenda Non avrebbero mai dovuto farlo diventare un witch Però Se lui non è un mercenario È qualcosa di peggio Lui si prova a piacere nel fare quello che fa Questo è profondamente sbagliato In questo mestiere in generale Aspetta la Cosmota Aspetta la Cosmota Aspetta la Cosmota Lo scott Questa scott Questa scott Questa scott Grazie a tutti. 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 Oh yeah. Quanto ti pagano per sfregarti? Grazie a tutti. Non c'è modo per evitare... Tutto questo? No? Cioè non posso curarlo in qualche maniera? Non c'è qualcosa che posso fare? Non c'è... 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 Devo ritornare poi per il tesoro. Gidia! Keep your eyes open. Think they're really here? Don't know. But like I said, I've grown real careful. No, it's a very bad thing, you know? Gerard. no nice man's gotta be worth more than the entire village what's in the barn hey got company run and find your parents tell them to grab whatever's valuable take you and flee got it good give this to your mother now run what was that compensation stay here and don't interfere no matter what happens I'm sorry I want to intervene yes what's that blazes about a lightning or something shut up all of you hmm hmm c'è un po' troppi love gullet good to see you alive and well funny second time today I've heard that lie it is no lie you will certainly fetch a higher bounty alive really how much enough to buy me in a state in kovir where I will lie about eating fruit till the end of my days not bad not every man gets to know the price on his head most men would prefer not to have one but why have you come to make my life easier ma in realtà ce l'ho portato io decided it was time to finally meet the famous arno vest in person I am flattered shame will not get to know one another better why going somewhere and this is true no simply because I will kill you in a moment and this is all to see but you don't even know me not nice think I have to punish you for that but I won't kill you I'll just cut off your hands cut off all your hands one man after the other till the end of your days those stumps will remind you of the mistake you made bloody hell you fucking dimwit I hadn't time to exchange two words with the man he provoked me we have no quarrel with you but one false move and and what che cosa sono un richard come lui what say you to that e' vero questo è un casino perchè non so come reagiscono oramai si è morto no non voglio problemi proviamo così vi basterà il suo medaglione you're not taking anything need proof take his medaglione we will take his head you are one we are three but in the time it took me to run up letho dropped six of yours with a bolt in his chest how long would it take me to kill you what do you think then take the medaglione the head could rot before we arrived at our destination saddle the horses we either you知 that you said yesterday we're right come dicevo sono slavo non basta una freccia per ucciderti vero levato tirati su forza lo sai anche tu Gerard hai ragione Gerard hai già eh si ti sei divertito? stai bene piuttosto sei consapevole ma il Venom Zangwebarian potrebbe ancora ucciderti hai l'antidota? mmh saddlebag take it in a minute couple of days I'll be like new what was it for that whole farce? told you I'd been on the run since Loc Muin loads of pursuers got ambushed once almost died so I decided it was time to end it once and for all found Vestor's gang and paid off his arbalist you just witnessed the rest of the story hai paura che ti tradisse a Luis? what about Luis? was he part of this plan? nah a minor complication though his betrayal it did get me thinking but I had to risk it gotta say it's paid off Letho of Gullet's dead as a doornail word of that'll spread like wildfire far and wide all I gotta do now is disappear here vatene a Kaer Morhen è l'unico posto dove nessuno ti verrà mai a cercare you could wait things out at Kaer Morhen with your friends from the school of the wolf uh huh no thanks could end badly perchè? tell them I sent you they'll understand give you space care more you say? hmmm why not got some loose ends to tie up but then I'll head there what do you need what do you need help you somehow? need anything? no thanks I'll be fine so see you at Kaer Morhen see you wolf xD Viene and I date tante da pensare vi ne hai dà tante da pensare sai quando quando hai ucciso quell'imperatore dai su andata bene Andare fegge in effetto oh Grazie a tutti. 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 Ah, questo è... Grazie a tutti. 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 qui a tutti. Grazie a tutti. Chiudiamo... 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 qui a tutti... qui a tutti... qui a tutti. qui a tutti. Questo è... qui a tutti. molto alticcio salve signore come sta? e' sicuro? è sicuro grazie questo significa tanto e perchè trovate la mia cesta? con i miei sacchia? no potrebbe essere che qualcuno lo scartasse Potremmo, così molti anni ha passato, ma tornare e scegliere in attenzione, non ho altro che ti offro. Faccio questo, l'ora che ero in attenzione. Dio guida ti. Buongiorno. Non mi interessa. Buongiorno. 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 Guarda quello. Guarda quello che ti devo dire, salviamo la partita eeeh, è stata una domenica per 준�stival su Insulsa Sono delle live parecchie insulse Tra l'altro ho fatto dei tentativi Insomma sai Che sta vomitando l'anima Ho fatto dei tentativi per cercare di Streamare le retro console Cioè PS2 per intendersi Pensi poterlo Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Prossimamente Tipo Domani Quindi Buona serata a tutti E a domani Ciao ciao Grazie per essere stati qui